Ciao ragazzi, bentornati nel canale! Siete dei batteristi e suonate in una band? Beh, allora guardate questo video per non farvi odiare dagli altri musicisti. Voglio darvi dei consigli, o meglio, voglio dirvi degli errori da non fare quando suonate con la vostra band oppure con dei musicisti con cui non avete mai suonato. In molti non lo sanno, ma per anni ho suonato anche il basso in diversi progetti e anche in diversi contesti, quindi live, in studio e ovviamente anche in sala prove, da lì bisogna pur passare, e essendo stato anche dall'altra parte della batteria, mi sono reso conto che certi comportamenti possono essere molto fastidiosi per gli altri musicisti o che possono essere anche dannosi per certi versi, diciamo, per la band. E quindi, grazie alla mia esperienza sulla batteria e non, voglio darvi un po' dei consigli per evitare di fare questi errori che possono essere veramente fastidiosi per gli altri e farvi anche suonare un po' di meno, essere meno apprezzato dagli altri elementi della band. E quindi, grazie alla mia esperienza, voglio dirvi questi errori da non fare assolutamente. Vabbè, il primo è un grande classico, è quello di suonare troppo forte. Non dobbiamo dire, noi suoniamo la batteria è uno strumento rumoroso, quindi suono forte e basta. Non c'è cosa più sbagliata. Bisogna anche sapersi adattare al progetto e al locale in cui si suona. Ovviamente, se suonate in un palco gigante, in un open air, ci sarà meno questo problema, ma se suonate in un locale piccolino, in un club, un pub, dovete probabilmente regolarvi anche voi. Non avete il potenziometro del volume e quindi sta a voi. Dovete semplicemente suonare più piano, perché magari nel complesso siete troppo alti. E mi raccomando, ripeto, non dire, siamo batteristi e dobbiamo suonare forte, la batteria fa casino, non possiamo farci niente. Non è vero. Dovete cercare il modo di essere bilanciati rispetto agli altri musicisti. Come fare? Beh, in realtà ci sono diversi accorgimenti. Potete usare delle bacchette più leggere, magari in acero rispetto al noce, che è un legno un po' più morbido e leggero, e quindi qualche decibel lì già lo guadagnate. Potete suonare con bacchette diverse, tipo le fruste, che hanno un suono e un attacco un po' più morbido, e sicuramente può aiutarvi, però non è detto che sia il suono che vi serve per suonare in quella band. Quindi probabilmente non è la soluzione ideale. Secondo me, la soluzione ideale è quella di imparare a suonare un po' più piano. Soprattutto rullante e piatti, perché spesso e volentieri sono quelli che danno più fastidio, in quanto hanno delle frequenze alte, e quindi dovete riuscire a contenervi soprattutto lì. Potete usare delle piccole sordine, qualcosa riducete, però secondo me tutto sta nelle vostre mani. Dovete imparare a suonare anche un po' più piano. In alternativa, so che qua molti si rezzeranno i capelli, potete anche valutare la batteria elettronica. In alcuni contesti può essere molto interessante. Può permettervi di suonare comunque in modo deciso, ma di regolare il volume in base a quello che è il contesto. Ad alcuni può andar bene, in alcuni casi può andar bene, invece in altri no. Quindi mi raccomando, dovete imparare ad adattarvi alla situazione, al contesto, al locale e ovviamente anche agli altri musicisti. Quindi mi raccomando, non suonate sempre troppo forte. E parlando di adattarsi, ovviamente bisogna parlare dell'adattarsi a un progetto. Ma in che senso? Beh, in realtà un po' da tutti i punti di vista. Cioè, semplicemente, se noi siamo un batterista che spesso suona metal e ci chiedo di andare a fare una sostituzione in un gruppo funk, devo adattarmi come proprio drumming, come linguaggio musicale. Poi ci sta che io abbia il mio modo di suonare, ed è giusto che sia così, il mio linguaggio, però deve comunque essere un po' adattato, perché il linguaggio metal non c'entra con quello funk in tutto e per tutto. Quindi adattarsi come linguaggio musicale e anche come set. Non è detto che il mio set da metallaro va bene per suonare funk o addirittura jazz. Probabilmente devo far qualcosa. Devo magari cambiare l'accordatura. O addirittura devo avere magari un set diverso per un altro genere musicale o con caratteristiche diverse. Piatti magari più morbidi. Dipende. Di solito basta agire sull'accordatura e già basta e avanza, soprattutto se non hai un arsenale pazzesco. Quindi ti consiglio comunque anche di controllare se il tuo set è adatto a tutti i progetti in cui suoni. Quindi se è possibile magari prenditi due batterie o se no ogni volta fai dei piccoli accorgimenti per adattarti alla band in cui suoni. Questo è veramente fondamentale. Ragazzi questa invece è una cosa che dà super fastidio. È quella di suonare tra una canzone e l'altra quando gli altri musicisti parlano. Questo è veramente odioso e ci tengo a precisare che non lo facciamo solo noi batteristi. Però siamo in un canale di batteria quindi parliamo dei batteristi. Ragazzi quando gli altri parlano, soprattutto durante le prove, non suoniamo. O addirittura anche nei soundcheck lì è un disastro. Ragazzi suona solo chi deve suonare. Se no non si capisce veramente niente. Quando siete da soli potete fare il casino che volete. Però soprattutto quando si sta parlando di modifiche da portare un brano, quando si parla dell'organizzazione magari di una serata, di come organizzare le macchine, come caricare gli strumenti. Lì dovete stare attenti, parlare e soprattutto non dar fastidio agli altri. Veramente una cosa fastidiosissima. A me dà molto fastidio sia da batterista, quindi quando lo fanno gli altri musicisti, ma sia quando ero dall'altra parte con il basso sentivo il batterista che continuava a suonare. Veramente noiosissimo. Quindi se non volete farvi odiare da tutti, ecco, questo sicuramente è una cosa da tenere in considerazione. Anche perché soprattutto durante i live spesso il fonico è una situazione un po' difficile. Se noi continuiamo a suonare mentre il bassista fa il soundcheck e poi il chitarrista non si capisce niente. Quindi vi assicuro che anche il fonico vi ringrazierà e sicuramente se lo ricorderà. Insomma, il concetto è suonate quando dovete suonare, non tanto per far casino. Un altro errore che ho riscontrato molto spesso è quello di sottovalutare quando diamo il tempo, il count in. One, two, three, four. In che senso? Uno, non si è decisi. Bisogna essere decisi e farsi sentire. Perché su un palco, quando magari c'è casino, soprattutto in un festival o in un locale piccolo, anche molto affollato, magari gli altri non sentono. Quindi fatevi sentire, siate decisi e soprattutto date il tempo correttamente. Cosa fanno tanti? Non si scrivono la velocità, anche se non le sanno bene. Quindi soprattutto se non sapete bene, scrivete le velocità vicino ai titoli dei brani della vostra scaletta e poi ve le ascoltate. Uno, due battute, dieci secondi, clic, 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 clic. Boom. Sono la velocità, prendo le bacchette. One, two, three, four. E via le andare. Partite già la velocità giusta. Non che andate un po' a spanne, partite, poi vi rendete conto che il pezzo era più veloce e accelerate in corso d'opera. Questo non va assolutamente bene. Dovete essere affidabili, siete voi responsabili del tempo, ragazzi. Quindi scrivetevi piuttosto le velocità se non siete sicuri, ve le ascoltate dieci secondi se ce li avete e poi partite subito alla velocità giusta e cercate di mantenerla fino in fondo. Anche perché spesso durante i concerti siete magari un po' euforici, tendete a fare tutto un po' più veloce. Invece no. Magari il chitarrista ha un assolo già complicato di suo, in più parti più veloce, glielo acceleri, non ce la fa più a farlo. Non va bene. Quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi le velocità, ascoltatele se non siete sicuri, perché questo è un aspetto molto importante e siate convinti quando date il tempo. È una delle cose più importanti di un batterista. E poi un altro errore è quello di affidare tutto alla memoria. Ragazzi, non fidatevi troppo della vostra memoria. Perché? Perché in un concerto potete essere semplicemente stanchi, avete bevuto una birretta di troppo o siete distratti, qualsiasi cosa potete dimenticarvi delle cose. Dei passaggi, ad esempio. Soprattutto è questo di cui parliamo. Scrivetevi le parti, scrivetevi delle note, degli appunti. Soprattutto quando ci sono delle piccole modifiche. Vedo un sacco di musicisti che dicono boh, ma la ricordo. Poi il giorno dopo al concerto la sbagliano perché sono andati di memoria muscolare, hanno sempre fatto il pezzo in quel modo e quella modifica la saltano. No! Piuttosto vi scrivete un piccolo appunto sulla scaletta e basta, ma almeno lo avete scritto. Prendete appunti, portatevi sempre una mattita, una penna e un foglio. Prendere appunti è importante. Poi magari l'avete super consolidato dopo diversi concerti, posso capire che non dovete più scriverlo. Ascoltate uno che di concerti e di soprattutto sostituzioni ne ha fatte, dovuto imparare un migliaio di pezzi. Ecco, se non ve li scrivete questi piccoli dettagli è facile che ve li dimentichiate. Dovete essere affidabili come batteristi, quindi scrivetevi le modifiche che andate a fare durante le prove, così poi magari prima di iniziare il pezzo ce l'hai lì sulla scaletta, lo vedi, te lo ricordi e lo fai. O addirittura se ti scrivi proprio una parte e allora lì te lo scrivi direttamente sulla parte, soprattutto se fai delle sostituzioni o sei nuovo in un progetto. Quindi ragazzi, un errore classico è non scriversi niente. Sbagliatissimo. Non abbiate paura a scrivere. Non è meno da fighi scrivere, anzi, è meno da fighi sbagliare mentre si suona perché non si è stati attenti o non si è preso nota delle modifiche. Questi sono solo alcuni degli errori che ho visto fare e che ho fatto anch'io, quindi basato sulla mia esperienza da batterista e non solo. Ragazzi, sono veramente dei consigli molto semplici da seguire che però possono fare una gran differenza. Essere un buon batterista o un batterista discreto sta anche in queste cose quindi vi consiglio veramente di seguirle. Se il video vi è piaciuto e soprattutto vi è stato utile come sempre vi invito a lasciare un like e un commento per supportarmi. Inoltre, se voglia di rimanere aggiornato ogni qualvolta pubblico qualcosa di nuovo iscriviti al canale attivando la campanellina. E inoltre, se vuoi seguirvi più su quello che faccio nel quotidiano, sono presente anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video! Ciao!